L'Egea deve aver raccolto il manfatto e si è trasformata in quella creatura. Chissà quante persone sono diventate il terrore serpeggiante nel corso dei secoli. L'Egea deve aver raccogliato il corso dei secoli. Io dico che qualcuno un giorno si ricorderà di noi. L'Egea deve aver raccogliato il corso dei secoli.